expectations Io, come bambino, sempre mi sentivo meglio quando c'è una banda di musica mettermi vicino alla gran casa, perché sentivo veramente il stomaco, il suono. Io voglio fare una struttura ricchissima, possibile, e anche in certo senso provocativa, ma provocare vuol dire invitare, aprire il suo orizzonte. L'impresione era per me l'inizio di questa idea di musica concreta, io in questo tempo volevo annunciare un'altra idea di musica, non pensavo che tutti si dovessero scrivere come me, ma per me si apriva un paradiso di possibilità. Ma anche questo strumento immaginario di una marimba, clarinetto e viola, è diventato un nuovo strumento in my life. E come ho detto, un strumento che dopo si può fare tante musiche, che può fare soltanto questa musica. E come un limone, una volta si preme, poi il limone è finito. E per il violonista è veramente un challenge. Deve mostrare la sua capacità di creare un'intensità nel silenzio. Oggi tale silenzio è diventato molto prezioso, credo. Il violonista è diventato molto prezioso, credo. Capitulazione. Difficile. Chiaribili.